Benvenuti all'episodio zero dei Coach Starter, la nuova rubrica di fustella rotante di cui nessuno sentiva il bisogno. In questo spazio andremo a parlare di alcuni progetti Kickstarter che non riescono a farsi strada all'interno delle nostre mirabili live. Andremo a vedere qualche progetto particolare, qualche chicca, a approfondire qualche curiosità e tutta... No, in verità lo faccio soltanto perché gli altri mi dicono che non faccio un tubo, quindi devo fare questa cosa, abbiate pazienza, non interessa a voi, ne interessa anche a me, però va fatto e facciamolo. Il primo progetto di cui parleremo è Yura Yura Penguin di Ryoko Yabuchi. Un gioco giapponese il cui autore è al primo progetto e si autoprodurrà questo straordinario gioco, un family game di destrezza in cui il nostro principale scopo sarà quello di andare a costruire questi infiniti iceberg su cui poi andranno ad appoggiarci dei bellissimi, bellissimi pingui di legno. Quindi se volete direi che soltanto per i pingui di legno ne vale la pena, personalmente. Il secondo progetto di cui vi voglio parlare è Catapult Kingdoms, gioco di Christian Foch edito da Vesuvius Media. L'obiettivo tautologico di questo gioco è quello di conquistare il regno avversario a colpi di catapulta. Un gioco per due giocatori dove appunto i due schieramenti si lanciano addosso delle simpatiche pietre attraverso le catapulte. Ora, sinceramente, detto da noi, a chi può piacere un gioco dove c'è i catapulte, i cannoncini, queste robe, c'è, siamo Serbia. Last but not least abbiamo Mantis Falls, a Game of Trust, gioco di Adrian Kerryhart e pubblicato da Distant Rabbit Games. Un gioco per due o tre persone di gestione mano, strategia, mafia e tradimento. Perché benché si tratti di un gioco cooperativo, almeno inizialmente, in realtà, come nella vita vera, non sappiamo mai di chi possiamo fidarci. Questo sì che è un bel progetto. Andate a darci un'occhiata perché... Ed eccoci alla conclusione dell'episodio zero di Coach Starter, questa fantastica rubrica pensata, ideata e realizzata con dei mezzi pessimi dal sottoscritto. Nick di Fustella Rodante. Se vi è piaciuta mettete like alla pagina, a Facebook o al canale YouTube. Non so dove, accidente, state guardando questo video, non lo so. Io ti metterò, se non ci capisco, assolutamente niente. Io fingo di saperlo, ve lo dico, ma non ci... Vabbè, insomma, mettete... pigiate un bottone generico e se vi è piaciuto ci vediamo alla prossima. Speratelo! Speratelo! Speratelo!